Hey, bentornati su Breaking Italy. Lo so che questo argomento è molto, moltissimo interessante per alcuni di voi, è super poco interessante per altri, è un po' fatico a comprenderne le ragioni, in realtà, perché, come tutto ciò che è controverso e litigiosetto, affonda le proprie radici nel giudizio che normalmente si ha nei confronti. Delle sostanze illecite, che noi giovani chiamiamo le droghe, di chi ne fa uso o abbia fatto uso di queste sostanze e di quale sia il modo migliore di affrontare il problema delle dipendenze. Ah, memini. Cosa faremmo senza di loro? Questo è Justin Trudeau, primo ministro del Canada, leader del partito liberale e uno dei pochi personaggi politici contemporanei che, mentre è ancora in vita e senza aver fatto cose come bonificare paludi e prendere decisioni irrevocabili per il bene del popolo, è stato reso immortale dalla macchina del capitalismo. Tanktop di lui a cavallo senza maglietta, vestaglia da casa per non sentirsi mai soli, graphic novel, importante, le formine per i biscotti, persino la candela all'essenza di Trudeau. Il Canada è un po' un altro pianeta e da paese alieno fa cose che qui nella vecchia Europa, e in buona parte del resto del mondo, sono considerate aliene. Ad esempio, sta per diventare il primo paese del G7 a legalizzare completamente la produzione, la vendita e il consumo di marijuana, avverrà tra pochi mesi, e ci sono già delle proposte abbastanza apprezzate dalla parte meno conservatrice della politica canadese di decriminalizzare anche tutte le altre sostanze. Il partito liberale canadese si sta preparando, infatti, al suo periodico meeting nazionale. E in varie delle risoluzioni che verranno discusse, che fanno parte della vita democratica del partito, per scegliere le questioni da affrontare, è già emersa la volontà di seguire un altro pezzo della cosiddetta Via del Portogallo, con l'introduzione di nuove leggi, che pur mantenendo integra l'illegalità relativamente alla produzione e alla vendita di certe sostanze, quello non si può fare e non si potrebbe fare, decriminalizzino la parte del consumo, iniziando a trattare le persone che fanno uso di sostanze non più come criminali, ma come malati, cittadini che hanno quindi bisogno d'aiuto dello Stato. Il Canada ha, come altri paesi, un problema relativo all'abuso di ste robe. In questo caso, in particolar modo legato alla cosiddetta crisi degli oppiacei, in molti casi farmaci, smerciati e utilizzati legalmente senza controllo, che soltanto l'anno scorso ha ucciso 40.000 canadesi, più del totale delle vittime di omicidio sommate ai morti in incidenti automobilistici. È un po', considerando che in Canada, peraltro, non esistono autoveicoli e le persone si muovono di città in città a bordo di slitte trainate da renne. Anche in Trentino è così, da qui la tradizione della figura che a Natale porta i doni ai più piccoli. Gesù Bambino. Vista la gravità della situazione, l'idea è quindi quella di proporre un approccio differente, fondamentalmente copiandolo dal Portogallo, appunto, che ha fatto due cose. Ha iniziato a smettere di incarcerare le persone che fanno uso di sostanze, preferendo punirle quando possibile con dei richiami, delle ammende e, nei casi più gravi, obbligandole a seguire corsi e sottoporsi a profilassi mediche di vario tipo, e due, cercando di imprimere un cambiamento culturale, ricordando che i drogados non sono drogados, ma cittadini anche loro, cittadini con una dipendenza, cittadini che fanno uso di droghe. Ma sempre cittadini. Ora, non so dove questo porterà, non lo sa nessuno. Trudeau si è in passato detto contrario a legalizzare, ma non decriminalizzare, perché di quello parliamo, altre sostanze oltre la marijuana. E lo ha probabilmente fatto per difendersi dalle accuse dei conservatori, che hanno fatto campagna sul timore che le prime legalizzazioni potessero essere avvisaglie di aperture ulteriori, sulla paura che, normalmente, in tanti casi, comprensibilmente, le persone hanno nei confronti di questo mondo, di queste cose, più i vari qualcuno pensi ai bambini, qualcuno protegga i nostri figli, non è colpa mia mamma, sconosciuti mi mettono a mia insaputa delle costose droghe nei cocktail, in discoteca, e via così. Ma, se questa linea passasse, il Canada si troverebbe con due dei tre grossi partiti nazionali, quello democratico e quello liberale, i conservatori nemmeno morti, ovviamente, potenzialmente abbracciare e iniziare a perseguire l'idea di una nuova linea politica di approccio al problema, che quindi smetta di considerare criminale, ma anzi, bisognevole d'aiuto, un cittadino dipendente. E questa è la cosa più interessante del discorso, per quanto mi riguarda. Si riaggancia a una roba che dicevamo in live, venerdì. Come lo imponi un cambiamento culturale nella società? In questo caso, come fai capire, se così fosse, vorrei sentire varie e diverse opinioni al riguardo, che marginalizzare e abbandonare le persone a loro stesse, anche solo con il linguaggio, chiamandoli drogati e zecche, magari, non fa che ingigantire un problema che altre nazioni sembrano più interessate a risolvere, invece che tirarne fuori una questione di principio? È sempre così importante la questione di principio. Parlando d'altro, sapete chi, poraccia, farà in modo di riesumare vecchi stereotipi relativi ad altre questioni di principio, con un annuncio che tanti prenderanno come esempio per giustificare il proprio arbitrario disprezzo e le proprie paure relative all'HIV? Con Cita Wurst, che ha fatto coming out, come siero positiva. Evviva! La cantante austriaca, quella che manda tutti ai pazzi perché era uomo, ma ora è donna, ma anche la barba, tipico esempio di gender virus che non ha attecchito completamente, ha infatti fatto sapere ai suoi fan di essere da anni malatta di HIV. È fuori pericolo, nel senso che il virus è sotto controllo, è a carica virale bassissima, quindi non è nemmeno contagioso in quello stadio. E significa anche che posso parlarne in maniera non tragica ma ironica senza che mi arrivino le mail offese. È interessante in realtà che la cantante non avrebbe fatto coming out a suo dire per lanciare messaggi di nessun tipo alla gente, ma per questioni ben più umanamente meschine. Un suo ex fidanzato l'avrebbe infatti minacciata di rendere nota la cosa e quindi ha giustamente deciso di riprendere il controllo facendolo direttamente lei sul proprio profilo Instagram, che sono abbastanza d'accordo sia la cosa migliore da fare. Ben fatto. Brava. A tal proposito ci tenevo a farvi sapere io, prima che ve lo dicano gli altri, che ho in passato bevuto moito in bottiglia, jack e coke in bottiglia e altri intrugli preassemblati e venduti nei supermercati. E ho mangiato canederli in più occasioni, anche se mi sono rifiutato di assaggiarne il brodo nel quale vengono lasciati a galleggiare tristemente. E gli alpaca sono carini in foto, ma di persona probabilmente mi farebbero schifo si iniziassero a sputare in giro. Scusate tutti. Parlando di shift culturali, peraltro, ci sono delle cose interessanti. Questa l'ho appresa da Il Post, che ha fatto un lavorone in merito, e l'aver letto il loro articolo mi ha spinto in un mondo di commenti ad altri articoli in inglese e sotto i commenti di YouTube, che è stato onestamente un viaggio fantastico sul ragionare su quanto importanti possano essere per gli esseri umani i rituali religiosi e magici. Seguitemi su questo punto, parliamo di immigrazione. Uno dei grandi canali migratori per le donne che arrivano dalla Nigeria è attivo perché sorretto dal mercato della prostituzione. Perché pu che schifo vengono qui che vergogna, però poi, eh. Ogni anno quindi tantissime donne vengono vendute e obbligate a prostituirsi nelle strade delle nostre città, dopo aver intrapreso viaggi allucinanti nel deserto e sui barconi, vittime di violenza anche durante il viaggio stesso. Cose orribili. Da anni si parla anche di come queste giovani donne nigeriane vengano obbligate a prostituirsi oltre che con la coercizione fisica e le minacce alla famiglia tramite dei riti voodoo. Delle sorte di maledizioni magico-religiose che si dovrebbero scatenare nel caso la schiava in questione decidesse una volta arrivati in Europa lontana dal controllo della madame cioè un'ex prostituta che fa da manager di non onorare il proprio debito cioè fondamentalmente rifiutarsi di pagare la cifra che arbitrariamente il trafficante ha deciso lei valesse. Ok, già qui è strano ma non è così strano noi stessi colti europei nell'anno del signore 2018 necessitiamo di leggi che puniscano chi sfrutti le credenze popolari e ci muoviamo in un sottobosco di realtà antiscientifiche che spesso rasentano un po' la magia quindi abbiamo poco da fare gli spiritosi ma la cosa interessante viene da questo tizio qui E'uare II re dello stato di Edo una zona geografica nel sud ovest della Nigeria che ospita Benin città di un milione e mezzo di abitanti ma soprattutto massima autorità religiosa della zona titolo che prende il nome di Oba E'uare II ha il mese scorso celebrato un rituale che fondamentalmente rende nulla la maledizione che grava sulle spalle delle decine di migliaia di donne ridotte in schiavitù in questo modo anzi ribaltandolo e contromaledicendo i sacerdoti perché spesso sono proprio tali figure di leadership religiosa riconosciute che continueranno a ufficiare i rituali per attivare questi legami Voodoo un gesto che è stato definito rivoluzionario storico e addirittura secondo il New York Times il più efficace si sia mai fatto tra tutti gli interventi contro la tratta di esseri umani messi in atto dalla comunità internazionale ma non solo è semplicemente affascinante andare a vedere i commenti ai video della cerimonia e addirittura altri video affidati a YouTube di opinioni sul significato della cerimonia stessa e sul valore della maledizione leggere i tantissimi commenti che fanno ironia sulle madame che dovranno ora cercarsi un altro lavoro e dirsi felici della scelta e affermare quanto amore l'oba in questione avrebbe dimostrato compiendo un gesto di tale portata è fascinante è semplicemente fantastico nessuno ovviamente sa quale impatto questa cosa possa avere in realtà però non possiamo fare finta non sia interessante né evitare di provare a fare delle similitudini con le nostre consuetudini in modo diverso da noi esiste da almeno 150 anni una criminalità organizzata che utilizza sia nei giuramenti di affilazione che nella comune vita di tutti i giorni ampi riferimenti allo stesso cattolicesimo che nel frattempo papa dopo papa scomunica e condanna qualsiasi tipo di mafia e azione mafiosa quindi senza ottenere grandi risultati allo stesso modo quando il papa ha in passato detto cos'è ben più soft come di non essere nessuno per giudicare un gay che comunque cerchi dio vi ricordate questa storia? beh mi sembra che la cosa abbia generato un ampio dibattito abbastanza allucinante che se ce lo concediamo visto da una certa angolazione un po' fa sorridere vi aspetto nei commenti ladies al volo prima dell'ultima cosa perché dobbiamo un secondo parlare di siria il giudice per le indagini preliminari di ragusa ha rigettato la richiesta della procura di catania e del suo procuratore carmelo zucchero che avevano posto ve lo ricorderete sotto sequestro la nave della ong spagnola proactiva open arms poco più di un mese fa suscitando grandi applausi la nave non è più sotto sequestro zucchero aveva ritenuto di dover bloccare la nave e accusare l'equipaggio di associazione a delinquere ma era stato prima sconfessato dal jeep di catania che non aveva ritenuto l'accusa plausibile e ora pure il suo reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina non ci siamo perché la libia come ripetuto dagli attivisti e ora confermato da organi ufficiali non sarebbe ancora in grado di accogliere i migranti soccorsi in mare nel rispetto dei loro diritti fondamentali proprio perché non esiste la prova dell'esistenza di porti sicuri in Libia che sono quelli nei quali un'imbarcazione dovrebbe recarsi dopo aver soccorso delle persone in acqua riguardo al fatto di non averli portati a Malta invece porto più vicino a quello italiano perché non li hanno portati lì non esisterebbero prove sulla disponibilità dell'isola ad accogliere queste persone bello brutto che sia quindi fondamentalmente viene affossata completamente l'idea iniziale che era quella che la ONG operasse non spinta da necessità perché non sapeva dove portare sta gente ma da chissà quale ragione criminale occulta cosa che molti cittadini pezzi di politica che parlano di taxi del mare ed evidentemente anche frammenti di magistratura dei quali interpreti i nomi iniziano ad essere ridondanti ritengono invece essere plausibile insomma niente complotto Siria l'attacco americano è avvenuto e come ce l'avevamo detti in live non si è trattato dell'Iraq 2.0 mamma mia gli americani che molti temevano anzi ancora più oggi che ieri ma era fondamentalmente dato per certo da giorni per questioni logiche sembra palese che gli USA non abbiano intenzione di mettere mani nella guerra in Siria una questione che è anzi finita al centro delle cronache solo e soltanto per l'utilizzo di armamenti al gas che sono proibiti e che ora che gli USA il Regno Unito e la Francia avrebbero congiuntamente colpito tre diversi obiettivi militari di produzione e stoccaggio di tali armamenti senza uccidere nessuno peraltro solo distruzione di laboratori materiale cose tornerà nelle tenebre più totali mentre Assad Putin e le varie milizie iraniane continueranno a farsi pochissimi problemi etici con il bene placito di tutti i loro funds perché la guerra è brutta soltanto quando ci sono gli USA in mezzo la Russia ha ovviamente protestato chiedendo alle Nazioni Unite di condannare l'attacco statunitense senza però trovare supporto alla sua richiesta da nessuno che non fosse il governo cinese più quello boliviano per qualche ragione ma è stato interessante vedere che gli Stati Uniti tramite la loro portavoce si sono detti pronti a colpire di nuovo ma solo nel caso venissero usati armamenti chimici quindi dimostrandosi totalmente disinteressati alla questione del dopo Siria avanzata invece dal presidente francese Macron di nuovo la guerra è persa Assad rimarrà lì i russi hanno vinto e la tanto agognata rivoluzione siriana si è persa da anni in un mare di confusione indifferenza e giochi tra potenze regionali sarà perlomeno curioso vedere cosa succederà ai kurdi visto che Trump parla di un rientro a breve delle poche truppe statunitensi impiegate nel paese una cosa interessante è oggi però successa tutti dicono sono state usate armi chimiche molti dicono è piuttosto probabile che le armi chimiche utilizzate sulla popolazione siano state impiegate dal regime di Assad la Russia dice non è vero niente gli americani vogliono bombardare per cancellare le prove del fatto che non si avverò niente gli americani bombardano ma bombardano tre obiettivi militari che non c'entrano niente con la zona in questione e nel frattempo arrivano a Duma richiesti da tutti per svolgere le indagini e svelare il complotto gli osservatori dell'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche e vengono infatti accolti a braccia aperte proprio dalle truppe governative e dai russi che non vedevano l'ora di confermare al mondo quanto andavano dicendo ovvero che non c'è mai stato uso di armi proibite aaaaaaahhh no non è vero niente hanno impedito fisicamente l'accesso agli esperti arrivati sabato dicendo che per ora non possono entrare nella zona a causa degli effetti dell'attacco condotto dagli USA e questo era tutto per oggi grazie per aver guardato ho fallito ho promesso le nuove grafiche finali non le ho fatte ma sono un uomo anziano nel weekend ho dormito molto continuiamo quindi a ringraziare a voce i supporters di Breaking Italy Club molto obbligato alfieri ne abbiamo a pacchi oggi un gruppo di scout abruzzesi da destra a sinistra sono Francesco Sebastiano Claudio Lorenzo Edoardo e Matteo il logo è praticamente invisibile ma apprezzo la foto sia stata scattata là fuori nella natura mi hanno detto che oltre le stanze gli appartamenti e la penombra c'è un mondo da esplorare incredibile non pensavo fosse vero fate i bravi ci vediamo domani